Nella puntata precedente. Dov'è Elpred? Signor Pelato, mi scusi. Dovrei parlar... Non volevo guardare la statua, però vabbè. Cioè ci ha messo dieci anni a fare una... una statua? Ah? Eh, 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 ho... troppo vicino a... ehm, toxine. Anche il prete non è capace di farlo. Più vicine le mani. È divertente sentire me stesso fare la stessa scuola, sempre e sempre. divertente... e un po' triste. I summoners sono praticanti di un'arte sagra, scusati per proteggere le persone di Yevon. Ma che baffoni quel tipo. Questo come una sciabola. per le nostre prete e venire a noi. Sono la benedizione di Yevon. E quindi cosa ha detto? Era che dovremmo rispettare qualche tipo di grande uomo, o qualcosa di così, ho pensato. Complimenti, Titus. Eh... che devo fa'? Sì, va bene. Posso andare qua sopra? Certo che non posso andare qua sopra. Posso andare di qua? Visto che ci sono due porte. Magari c'è una pozza o qualcosa. Non c'è un tubo! Ottimo! E... dall'altra parte? Oh! Signora! Non mi può spingere così però, eh? Non è una bella cosa. Non c'è un tubo neanche di qui, però c'è il signore anziano. Il signore anziano non sa niente neanche lui. Quindi... Posso andarmene? Sì. Quindi posso andare a parlare con Waka. Waka! E qua, Waka! Amina, amina... Waka... Eh, vabbè. Minaccia di Sin. Questa musichetta qua è rilassante come non so che cosa. Waka! Posso dormire? Sorry, man. Moutain, take a nap. Appunto. Poi almeno potresti andare a vedere come stanno facendo. We can't interfere, it's a rule. But it's been nearly... But it's been nearly... It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now Thank you Who cares whether he comes back or not But he might die Fine, let him Do you Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him Che famiglia proprio problematica Qual'era la madre di Tidus e Tidus bambino Bambino ribelle Waka? Waka è andato al tempio A parlare col pelatone Bambino ribelle D'accordo. eh non lo so, se non mangi non bevi per un giorno e non dormi o roba del genere, è proprio salutare eh, ma cosa se qualcosa succede? cosa se il summoner morirà? un precepto deve essere obbligato! e via magari, questo non era una buona idea, dopo tutto è abbastanza semplice, si può sbloccare una chest, una stanza segretta con una chest e in quella chest c'è un oggetto speciale devo prenderli tutti, non vi dico perché, ma devo prenderli tutti c'è un motivo, non è che lo faccio perché non ho un tubo da fare c'è la sfera qua? mi dia la sfera, gentilmente ah sì, Tidus ha grossi problemi alle mani e può tenere solo una sfera in mano può tenere una sfera in mano per volta, se ne tiene due, beh, esplode quindi, boh cioè ci complichiamo un botto la vita solo perché possiamo tenere una sfera per volta ah, vabbè sì, inseriamo la sfera, ping e si apertano una nuova stanza ora, da qui, quella è la sfera del sigillo qui c'è un bugo dove si può mettere una sfera allora, l'uscita è da questa parte e... tocca l'emblema sulla parete quella è un'altra sfera, forse quella della distruzione, non lo so qui ci va qualcosa, no allora, prendiamo sta sfera che dovrebbe essere sfera di B-said, non della distruzione va bene, prendiamo qua ah no, devo mettere lì dentro la sfera della distruzione questo me lo ricordo per prendere l'oggetto va messa lì dentro qui c'è una porta fa qualcosa no, non fa niente quindi è quella sbagliata però non so dove dove la metto giù la metto qua ok ok questa è l'uscita cioè è molto difficile no, spingerlo fermati sì va bene quella è... cioè, sì, è la fine quindi... ma non voglio andarci prima devo riuscire a prendere l'altra sfera eh... ci serve questa forse ci serve una sfera che ci sblocca la sfera della distruzione sfera della distruzione la mettiamo da quell'altra parte yes dimmi che sei qua dentro yes, sfera della distruzione la mettiamo dall'altra parte e ci sblocca la chest sbloccata la chest possiamo uscire il primo chiaramente dovrebbe essere abbastanza semplice l'ultimo invece è un po' complicato ma... ci arriveremo prima o poi eccola lì la chest che ci serve cioè in realtà non ci serve la chest e neanche l'oggetto ci serve semplicemente averlo preso però comunque è un'ottima arma eh... infatti, oggetti nascosti chiaramente l'asta non è l'arma td tdus tdus usa solo spade spingi sto cosmo sul piedistallo stop! finito! hey! ha arrivato a te eh, è ok solo i summoners, i summoners, i summoners e i guardiani possono arrivare qui grazie Sisio per avermi detto che ti sei aggiornato quindi... lui è un guardiani io? sono un guardiano un guardiano? eh... guacca ma non dici che cosa che cosa ha detto? ma non dici che cosa quello no no la traduzione a caso ha preso un trofeo la cosa giusta ho notato che non si vede nei video che prende il trofeo però si sente il bling quindi lo dico allora lei e lulu l'altro simpaticone è chiamari tizio piacere attenzione il gigantesco scudo si aprirà non si aprirà chi lo sa si aprirà oh mio dio oh mio dio oh mio dio non si aprirà non si aprirà controllo non si aprirà ma non ci aspettare non ci aspettare non ci aspettare ma non ci aspettare non so neanche cosa vuol dire vecchi anziani ma vegliardi aspetta pelato che mi dici bravo pelato dimentica le cose ehi con calma waka eccomi ci vuole un po il veiardo la mi voleva parlare indovinate chi è che usa l'asta e direi che ormai è ovvio la musica del menù principale che cavolo eccolo il mio miglior amico dell'uomo vale vale oi oi Grazie a tutti. 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 Tutti no, ci basta vincere il torneo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non abbiamo fatto un tubo. No, abbiamo fatto un tubo. La traduzione era quella... Dov'è un'altra... La traduzione è un'altra... Ce l'ha detto un'altra... Quindi... Che cosa rispondi non cambia un tubo, quindi... E' vero che manco abbiamo risposta. E' un'altra... E' un'altra... Perché l'ho saltato? Ci hanno cacciato nel posto dove... Dei miliziani a dormire... Ehi... Ehi... Non capisco... Non capisco... Ehi... 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 Tu con una donna? Tu non puoi capire una balla! Una balla! Oh, qu'è il problema? Sì? 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 È l'incubo più stupido che potevano inventare!